Ci siamo quasi tutti. Direi che si può iniziare tra 3, 2, 1, ora. Siamo qui con Gibi. Ciao, Gibi. Salve. Vado? Faccio qualcosa dalle denti? Bella manifestazione, tanti ospiti, tanto modo di incontrare gente e autori. Soprattutto è per chi ama i fumetti. Un po' riportare l'attenzione al punto giusto. Per una buonissima causa. C'è molta attenzione verso gli autori e questa è una cosa che c'è in pochissimi festival. Ho trovato una cosa che forse non ho mai visto prima in un festival di fumetto. È proprio un'aria nuova. Grazie. Abbiamo tanti autori romani e stiamo raccontando questa città. Il minimo comune denominatore è lo storytelling. Michele è uno storyteller e Simone è uno storyteller. Fondamentalmente è questo. Io sono molto contento, nonostante l'imbraccio di fare questa cosa insieme al danno, perché al di là delle cose che si dicono così, eccetera, e al di là dell'aspetto pre-invidiato e che invidio a pochissime altre persone, è il fatto che quando parlano non toppano mai. Cioè nel senso che... Solo quando parliamo però, eh. Toppiamo su tutto il resto, siamo bravi a parlare. Però ragazzi, io per trovare una toppa è proprio difficile. E io invece questa cosa, io a parole non sono buono a fare queste cose, io faccio gli disegni. Io per ogni volta che faccio un'intervista poi la rileggo, vedo 200.000 cazzate e ci metto dieci giorni a fare un fumetto scritto per dire quello che volevo dire in quell'intervista là. Ma grazie a tutte le persone che mo' ci stanno, assentizzero calcare insieme al danno. Organizzata da strecheno, questa è ARF, mi capisci, un writer tag a BARF. E scrive sulla metro, il diamante sopra il vetro, io non mi guardo mai indietro. Fisso vado avanti, sulle spalle dei giganti noi bambini, a fare la guerra con i tappini. Sopra i vagoni stanno assentizi, non guardamme quanto porto larghi pantaloni. Senti i miei concetti, sono perfetti, sì, sono taglienti come gli stiletti. Ma ci devo infilare la testa dentro proprio, no? Quanta gente mi vedrà con questo cartello intorno alla pala? Allora Mauro, da artista polietrico ho sperimentato molte branche dell'arte visiva. Tu sai quanto mi prenderanno qui? Scusa, 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 devo un attimo cambiare il nome da te. Ciao in polietrico Mauro, grazie. Ciao in! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo qui per un motivo molto particolare, cioè raccontarvi quali sono le differenze tra scrivere per il fumetto e scrivere per il cinema. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.